Buonasera a tutti. E-commerce, industria, medicina, esplorazione spaziale. L'AI sta rivoluzionando qualsiasi settore. La selezione di start-up di diverse categorie fatte da Fortune Italia, chiaramente non esaustiva, vuole rappresentare in maniera efficace lo scenario dell'AI e dell'innovazione italiana. È stata effettuata dando precedenza alle start-up che usano l'AI come cuore del proprio business. Sono state individuate anche grazie ad una call pubblica a cui moltissime aziende, moltissime start-up hanno partecipato. Adesso iniziamo appunto con la premiazione. Ask 27 applica l'intelligenza artificiale in diversi settori, dalla cybersicurezza all'editoria fino al distanziamento sociale. Alessandro Capucci. Alessandro Capucci. Alessandro Capucci. Alessandro Capucci. Alessandro Capucci. Alessandro Capucci.